Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Questo è lo speciale dei 200 iscritti Vi ringrazio tantissimo E oggi siamo su minecraft Per costruire una specie di tempio Degli iscritti Con il minciamo Tipo bene o male Aspetta mi devo mettere in creative Che così lo costruisco bello No Creative Deve essere bello maestoso Più o meno così Di così Di così Bello grande Ok Più o meno Faccio un po' così E poi Stopperò Taglierò il video Perché Sennò poi è troppo lungo Comunque vi ringrazio tantissimo Vi raccomando iscrivetevi E lasciate like al video E lasciate like al video Ok Questo Mi sto facendo un attimo Il pelimetro Così Così Poi dopo Lo faccio tutto Comunque vi ringrazio tantissimo Perché Sono molto felice di aver raggiunto i 200 iscritti Ringrazio Adesso Più o meno Più o meno così Questa terra Verrà tolta Comunque Sarà tipo una specie di tempio Degli iscritti Che tipo I 50 iscritti Ci sono arrivato Ai 100 iscritti Ci sono arrivate 200 Si E perciò E vorrò fare delle camere Tipo Poi Faccio tipo Sott'attimo Sta cosa Poi faccio delle camere Per ricordare Tutti i bei momenti Tipo dei 50 iscritti Che ho Dei 50 iscritti Dei 100 iscritti E poi dei 200 Sono una cosa mai escluse Forse Deve ancora essere finito E tipo di iscritti Mi raccomando Mi raccomando iscritti E poi Aspettate Una piccola dedica Per voi Vi ringrazio con tutto il cuore Per me siete una seconda famiglia E io vi voglio bene Mi raccomando iscrivetevi E lasciate like E questo E questo lo penso veramente Mi raccomando iscrivetevi Attivate la campanellina E in futuro Costruirò Una cosa Tipo qua Una cosa Che non Di spoiler E ciao Ciao